Pene per oltre 20 anni di carcere e multe che superano il milione di euro sono state combinate dal Tribunale di Brindisi nei confronti dei quattro imputati, tre brindisini e uno stunese, accusati di traffico di migranti tra la Grecia e il Salento. I giudici hanno condannato a sei anni e quattro mesi di carcere la brindisina Maria Sarazzecca, a cinque anni e otto mesi Natale Morleo e a cinque anni e quattro mesi Davide Lacaprice, cinque anni di reclusione infine per l'ostunese Alessio Mignarri. Nei mesi scorsi al termine del processo corrido abbreviato, era stato condannato il brindisino Tommaso Ferrero a nove anni e quattro mesi di reclusione. L'inchiesta, sfociata negli arresti effettuati nel dicembre 2018, fu coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e condotta dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Guardia di Finanza di Lecce, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata. All'epoca furono 13 le persone arrestate con l'accusa di far parte di una organizzazione internazionale composta da due cellule criminali specializzate nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, una italiana diretta da un brindisino e una greca capeggiata da un curdo siriano. I viaggi dei migranti vennero monitorati grazie al supporto della Guardia Costiera di Corfu e a quello aereo e dei mezzi navali del reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza, in collaborazione con i velivoli di Frontex rischierati in area di operazioni nel canale d'Otranto.